Pleroma Ho letto che pleroma è un termine filosofico usato dall'ognosticismo per disegnare la sfera cosmica mediatrice fra la realtà assoluta e l'assoluta irrealità della materia. Il pleroma, infatti, riempiva l'intervallo che separava le due opposte zone del cosmo e si contrapponeva nella sua pienezza alla vuotezza della sfera materiale. Commento Per i maestri immateriali, nell'assoluto, non esiste vuotezza ma solo pienezza e non esistono zone opposte del cosmo perché l'assoluto è ovunque. Grazie 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 Grazie